ciao ciao 280 moto quante aspetta vieni che c'è lì guarda quanti sono ciao saluta scripami è salito sopra lei quindi scusa è la tua questa sembra o perlomeno uguale no no è lei è lei ecco che non la trovo più aspetta che sta girando guarda che gira 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 porco cane come gira ma quante moto ci sono qua 280 moto quante 280 ma dove siamo dove siamo siamo a viano in provincia di reggio emilia e perché perché c'è la terza tappa del trofeo ktm del 2011 di enduro minchia minchia ci può stare ma così tante moto e si è un crescendo quindi domani vince una ktm per forza è più probabile una ktm allora gara di viano terza tappa della trofeo ktm enduro giusto si confermo confermo allora come si fa a partecipare al trofeo ktm enduro ci si iscrive si prende il modulo è facilissimo basta avere una ktm per esempio oppure anche due o anche due a quel punto cosa si fa si va modulo ci si iscrive e poi si manda l'iscrizione la prossima gara è pieve bovigliana cosa succede a pieve bovigliana quindi bisogna connettersi a quale sito per capire allora puoi scegliere di ktm.it perché comunque ktm.it va sempre bene se no sport ktm no www.ktmsportitalia.it oppure la pagina di facebook ktm ready to race italy tu vai lì clicchi così e scarichi tutte le notizie guardi tutte le cose che facciamo perché non si si non ci si può esimere esimere perché non si può mancare questa la tagliamo non si può mancare perché ci si diverte vero siamo in tanti facciamo un aperitivo pieve bovigliana organizziamo organizzeremo addirittura una cena al sabato sera e se tu vieni dovrai portare tu se vieni dovrai portare una tua specialità locale e noi mangeremo tutti insieme porteremo tutti qualcosa da mangiare sabato sera faremo bisboccia c'è un disorbatore solito intruso quindi allora connettetevi perché il trofeo ktm è fantastico si gioca al gioco dell'enduro si viene si ci si scrive ci si diverte basta avere una ktm una licenza fmi e il gioco è fatto ma questo via no mi sento uno dei vostri ci vediamo la ciao dai qui in mezzo è meglio è perché lampeggia fa registrare ancora poi se adesso si schiaccia